Ciao ragazzi, che cazzo di merda Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo vlog perché sono in stage Non sono riuscito a caricarvi nessun video, cioè di produzione locale di Jesolo Ma sono tutti i video vecchi di marzo Cioè li avevo fatti a marzo apposta per maggio come quello di ieri Prossima settimana ce ne sarà un altro sempre di sabato Allora, volete vedere la mia casa, cioè l'appartamento dove mi hanno messo Ok, questo è il letto dove dormo, questi sono gli altri letti dei due estagisti E andiamo a vedere il bagno ragazzi Il bagno è qualcosa di inquietante, non è che sia brutto per carità Ma cazzo l'architetto non poteva essere più stupido Allora, questo è il bagno, non è messo male per carità Ma ora mi spiegate perché cazzo ha messo la vasca da bagno qua e la finestra qua Cioè vi immaginate io che faccio la doccia, ma mi lavo, mi lavo E poi cazzo scivolo e cado giù Cioè cazzo, cado giù Cazzo, brutta fine, brutta fine Andiamo a vedere la cucina Allora ragazzi, la cucina Minchia Minchia La cucina è qualcosa di penoso Penoso Petoso Allora, qua c'è la cucina totalmente vuota, tutta buia E ci sono altri due letti, uno di uno stagista e uno vuoto Praticamente in questa casa siamo in 5 E c'è una noia mortale perché non c'è wifi Non c'è wifi Faccio questo video oggi, che è sabato Anche perché è il mio giorno libero e non c'è nessuno in casa Dopo andremo in hotel Non posso farvelo vedere per motivi di privacy Perché ci sono i clienti E poi questo pomeriggio andremo al mare Dimenticavo di farvi vedere il terrazzo Perché qua noi siamo swag Ci abbiamo persino il terrazzo con la porta che non si apre Allora, questo è il nostro fantastico terrazzo Con la nostra postazione per fumare Non è che fumo io, sono i miei compagni di stanza E qua le robe Allora, noi qua ci siediamo, qua la notte Quando non abbiamo un cazzo da fare E guardiamo le donzelle che passano per la strada Ecco, senza wifi ci siamo ridotti a fare persino questo Anche per le firma ahahah Lido, per chi non avesse capito la battuta siamo a Jesolo Lido sembra far freddo, mamma mia, ok l'acqua non è così fredda come sembra, sì, invece sì che è fredda come sembra, mamma mia allora ragazzi vi ho fatto vedere il mare, la mia giornata al mare consiste nel dormire come un dannato perché oggi è il mio giorno libero e finalmente posso riposarmi avrei voluto fare anche il bagno ma è un pochino freddo, casomai dopo vi faccio delle altre clip, sembra qua al mare ragazzi sono il signore degli anelli con i bastoni al mare ora andremo a vedere cosa faremo con questo mega bastone, sembra che non pesa niente ma pesa 3-4 chiliti ce li aspetta, se no qua ricasca tutto allora ragazzi un po' di pubblicità occulta a Jesolo non fa male ma che cazzo, manco scrive qua andiamo un pochino più indietro ok, qua ok, qua C L FLE SH mamma mia se è pesante questo bastone FLE SH dai, lacca FLE SH OFF dai, F esce fuori mamma mia, sta F è veramente artistica clash of clans 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 ok, ce l'abbiamo quasi fatta clash of clans oh dai CAI ma di chi cazzo sono stai in pronti ah sono miei, sono miei in pronti qua niente allora CAI dobbiamo scrivolo bello in grande K A K I perfetto un po' di pubblicità occulta a Jesolo non fa male a nessuno ragazzi si è fatto tardi ora torniamo a casa allora ragazzi il vlog di oggi purtroppo sta per finire se mi state chiedendo CAI perché sei vestito in giacca e clavatta ragazzi io devo andare al lavoro e sono le 9 di mattina e un pochino sonno vabbè questo era tutto per il video di oggi spero che sono bianco no, meglio così spero che vi sia piaciuto e come al solito lasciate un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo vlog grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti